Questo è un tutorial rapido per mostrare come pubblicare il vostro sito senza pagare a chiunque usando Dropbox e iWeb. Dropbox è per il compagno di file. Questo è l'applicazione, l'applicazione e la crea una Dropbox. poi se hai un Mac search for iWeb you make your site you search where it is you copy all the files and you paste all the files into the public folder of Dropbox which is into Dropbox in this case is at the root level then you right click on the welcome file and you copy the public link you go in your browser you paste it and your site is there and your site where this is kind of is you I I I I I I I I Grazie per la visione!